Ciao tesori, sono Angenia e oggi creerò nel mio nuovo studio per la primissima volta. Sono mesi che non creo e ora devo preparare l'esposizione per Abilmente Milano. Sapevo che sarei andata nel panico senza sapere da dove iniziare, così la me del passato mi ha lasciato delle piccole direttive. Prima fra tutte, fallo! Mi hai capito, ti devi mettere e lo devi fare! Proprio con questo tono da mamma del sud? E così ho iniziato dalle basi, letteralmente, con il rischio di insozzare tutto di gomma siliconica. A tal proposito ho utilizzato la R Pro 20 di Reschimica, con cui mi trovo da Dio. Troppa gomma per quel bicchiere, eh? Stompata la mia base e poi mi son dedicata ai volti delle creazioni. Credevo di non ricordarmi nemmeno da dove iniziare. Alla fine sono nati questi e sono abbastanza soddisfatta. Base è pronta e alla prossima, ciao!